Allora, io ho visto, Elisabetta, che tu hai scelto alcune opere che ti sembrano delle quali tu volevi parlare. Vuoi raccontarci perché hai scelto quelle opere e quale sono? Sì, beh, innanzitutto, appunto, la questione dello studio credo che sia proprio un tema che mi sta a cuore, anche se, appunto, io non ho più uno studio da vent'anni, nel senso di non avere più uno studio fisso. Per questo credo che in qualche modo lo studio sia dappertutto, non necessariamente in un luogo fisso, insomma. E questo tema dello studio e della creazione, cioè che cosa fa un artista nello studio, è un po', secondo me, anche il tema intorno al quale ruota tutta l'opera di Naumann. Naumann ancora oggi si domanda che cosa è un'opera, che cosa significa realizzare un'opera nello studio. E poi lo studio, diciamo, è sempre stato un po' il centro veramente del suo pensiero, anche in queste ultimissime opere. Nature Mort, il tema dello studio, è tornato di nuovo in un modo molto forte, insomma. Perché è importante per te? Tu trovi, ti trovi specchiata in quella preoccupazione con lo spazio dello studio? Mi trovo specchiata in quest'idea che l'artista è, in fondo, sempre in crisi, in un certo senso, no? E che bisogna partire da una specie di azzeramento dentro interiore, secondo me, perché si possa creare veramente qualcosa, almeno per come per me è la creazione di un'opera. E credo che questo, diciamo, Naumann lo continui a fare, forse anche nell'aver deciso di vivere, in fondo, fin da subito in un luogo lontano, remoto. Vive appunto da quando? Dal 79 in New Mexico. Nessuno, in fondo, sa veramente com'è il suo studio, se non forse attraverso le sue opere. Dunque, questo studio ha acquistato, diciamo, a una valenza molto faccettato, insomma. Ha avuto nel tempo diverse forme, si è presentato in diversi modi. Potrebbe essere un'estensione, appunto, è il corpo dell'artista. Il corpo di Naumann è sempre, appunto, presente nelle sue opere e lo studio e il corpo sono due cose strettamente legate tra di loro. Che lo studio è anche un luogo, appunto, nel quale si sta, nel quale si sta, si fa qualcosa o non si fa niente, ma si fa sempre qualcosa, si legge, si fanno... Cioè, si stratifica, no, questo... è un luogo in cui si stratificano i pensieri che poi prendono forma in qualche modo, insomma. Certo, è una nuova, un'esplopente, che si trova, una nuova, un'esplopente, in New York. È per la prima volta in Europa. È un'esplopente, il nostro franzo, che si trova un'esplopente, che significa un'esplopente di un'esplopente di un'esplopente di un'esplopente. of painting and that it is the studio as it is nothing as he does all the time it's his body as it is there's no it's quite dirty you can feel the time on the studio and I think this is so passing time in in all different ways in in thinking ways as well as in the physical nearly way because you can pretend to enter also in the studio with the technique I wanted to know if that aspect was something for you to choose that work dunque un'opera devo dire abbastanza straordinaria perché forse per la prima volta bruce nauman presenta lo studio come qualcosa che può essere veramente attraversato dal e manipolato dal dallo spettatore e questo forse non l'aveva mai fatto in qualche modo lo spettatore quasi non ha più istruzioni no per potersi muovere e forse questo però questo luogo che ci che ci da che ci presenta appunto è quasi è abbastanza impressionante perché è come se fosse un un diciamo un guscio vuoto che si affaccia sul sull'abisso sul sulla morte sul nulla in un modo ancora più più forte forse che che nelle altre opere e poi è coloratissimo è una sorta di paesaggio in continua mutazione e questo fatto appunto di di muoversi liberamente su questo su questo su questo paesaggio no in cui non hanno più neanche quasi un corpo no sono sono come la pelle di un serpente lasciata caduta a terra e infatti quando quando gira intorno al martello o al barattolo non so di colla eccetera ti accorgi che questo che questi oggetti non hanno più una solidità sono soltanto superficie superficie no e appunto sono in questo in questa sorta di cosmo di universo nero nel quale anche noi ci troviamo perché siamo in qualche modo c'è secondo me c'è anche un altro aspetto interessante di questo lavoro che credo è non c'è il sonoro dunque siamo noi la gente che che attraversa questo spazio perché il suono ha sempre avuto questo questa relazione di essere qualcosa secondo me nel lavoro di nauman che è fuori no in mapping the studio noi siamo immersi in questo spazio vuoto delle delle del suo studio questa mappa del del dello studio con queste sette proiezioni in cui c'è questo sonoro che viene dall'esterno no e abbiamo appunto ci sono è un sonoro diciamo che fa quasi fa quasi paura no è quasi c'è sempre un rapporto tra il tra il dentro e il fuori tra l'interno e l'esterno tra il tra il vuoto e il silenzio il vuoto che non è il vuoto che non è il vuoto come come direbbe john cage sarebbe un silenzio assordante anche in questo caso e secondo me in questo lavoro invece di di nature more siamo noi in qualche modo il suono di quest'opera cioè gli spettatori che che attraversano e che penetrano questo questo spazio che è diventato così come come crede hai detto anche tu nel tuo testo una sorta di guscio elisabetta tu hai detto una cosa che credo che molto io non l'avevo mai pensata così ma tu hai detto e che allo stesso tempo molto evidente che c'è un rapporto tra il corpo e lo studio allora all'inizio nei primi film si poteva dire ok allo studio c'è il corpo il corpo dell'artista il corpo fa delle cose il corpo si torna opera o l'azione si torna opera eccetera ma è vero che vedendo nato e morti ti fa pensare che quello studio quella pelle è anche una sorta di metafora del proprio corpo tu hai avuto quell'impressione di che quello studio diventava un corpo nel che che noi come come visitatori entriamo proprio in quel corpo no sì non lo so se è proprio un corpo forse magari nauman è andato e scappato via a cavallo e ce l'ha e ci ha lasciato quel corpo lì e perché poi sul sulle pareti c'è c'è lui che va a cavallo no e dunque quest'immagine insomma io me lo immagino che sia invece il suo corpo sia sia forse anche fuori però sì ce lo offre come un corpo questo questo spazio questo studio dove ci lascia veramente come soltanto i grandi poeti sanno fare e in fondo anche quest'opera parla del nulla no della come non so come hanno fatto leopardi come hanno fatto joyce beckett appunto perché loro lo sanno fare in un modo in un insomma come sanno fare grandi artisti è così siamo anche noi che siamo come come nauman insieme così ci 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 affacciamo su questo su questo insomma quest'immensità questo nulla che ci che intorno a noi nulla dentro nulla fuori allo stesso tempo di questa pelle che sembra come una sorta di resto e noi che sei siamo dei navigatori questa di questo nulla vorrei anche se ti sento parlare e tu ovviamente tu sei molto lucide parla parli di una posizione da una posizione obiettiva ma vorrei capire come tu senti che sia il tuo rapporto del livello della tua propria opera con con nauman è stato un artista importante per te beh ha fatto delle opere straordinarie intanto appunto questa diciamo è un'artista che parla che guarda in faccia quello che siamo parla della condizione umana e appunto e poi ha prima di tutti ha usato ha usato tutto ha usato la voce il corpo il neon il video la scultura ha usato cioè non c'è un punto che non gli interessi gli interessa la teoria gli interessa beckett gli interessa diciamo quello quello che siamo veramente e questa anche libertà di utilizzare tutto no sicuramente diciamo è una cosa straordinaria poi è un artista anche è un artista in qualche modo è americano ma è anche europeo e questo è anche un motivo di di fascino insomma del suo lavoro e poi naturalmente ci sono delle opere meravigliose che avrei voluto fare io appunto come Mapping in the Studio o altre insomma come le insomma certe sue sculture installazioni straordinarie ecco sì insomma mi è sempre mi è sempre molto piaciuto la forse la mostra più 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 completa che ho visto è stata qualche anno fa a Basilea allo showlager no? ma forse è proprio questo lavoro del Mapping in the Studio forse forse quel lavoro lì quest'idea no? dell'idea che si presenta sotto sotto la forma di qualcosa che non c'è e cioè qualcosa che può apparire quando 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 l'artista non c'è quando l'artista dorme quando sogna ehm quest'idea qui è diciamo un'idea bellissima no? non si sa bene da dove da dove veramente un'opera provenga eh poi ho trovato una citazione che dopo vi voglio leggere forse alla fine di questo incontro bellissimo che ho trovato sì diciamo questo mistero anche del dell'opera che che viene da qualche parte e e quando l'hai fatta non sai più neanche come hai fatto a farla quella cosa no? eh e questa è una una sorpresa e una magia diciamo del del fare questo mestiere di essere artisti no? questa in fondo scoperta che si che si fa anche di se stessi diciamo di arrivare a fare qualcosa è una cosa a cui non avevi mai pensato prima ecco io mi sento un po' così di non sapere mai quale sarà la mia prossima opera per cui questo mi mette in una sorta di avventura no? eh che ogni volta mi sembra come di non aver mai fatto niente di dover ricominciare sempre da da capo da zero no? una specie di condanna un una un loop che si ripete e credo che e credo che Nauman ha fatto sempre delle opere straordinarie radicali profondamente insomma non è mai non ha mai fatto delle brutte opere insomma credo che questo sia sia dovuto anche a questa sua questa sua come dire onestà con se stessi no? di cui anche lui parla e di essere sinceri con se stessi onesti con se stessi cioè si può mentire agli altri si può si può una sorta di pensiero così filosofico allora due cose tu hai detto che mi sembrano molto belle e molto importanti una questa sorta di libertà di lavorare con diversi materiali no? di non essere ristretto a una materialità determinata che io riconosco molto nella tua opera sì e la seconda che è molto diversa è questa una questione più etica una posizione no? una presa di posizione riguardo la verità la propria verità no? innanzitutto che poi viene articolata nell'opera e tu per te Nauman è particolarmente suggestivo in questa dimensione vuol dire ci sono altri artisti che anche per te possono essere letti nella stessa chiave o tu pensi che Nauman proprio per te ha incorporato o rappresentato questa dimensione di un modo più più forte di altri? beh diciamo forse Nauman lo è in un modo più radicale dunque questa cosa qui è straordinaria insomma non so quanti artistici sono come lui che insomma hanno vissuto così insomma l'essere artisti no? in questo modo molto bello perché poi è una cosa della quale non abbiamo parlato tantissimo in queste conversazioni che è il fatto che vincolato molto vincolato all'opera c'è una posizione etica esatto sì sì Elisabetta tu avevi scelto un'altra opera della quale che per te era particolarmente no mi avevo diciamo messo scelto queste tre opere sullo studio appunto Slow Angle Walk Back at Walk in cui appunto diciamo ancora una insomma il primo forse diciamo questi film sul giovanili sono comunque straordinari perché insomma ecco questa consapevolezza no? di si è in qualche modo era veramente molto evidente anche da subito diciamo fin da questi primissimi lavori di Nauman no? dunque questa questione dell'etica di cui parli secondo me è stata una cosa molto diciamo che credo lui si sia posto fin da subito e questo spazio che è quasi appunto questo luogo svuotato come un palcoscenico del teatro come il teatro di Beckett no? questo luogo vuoto in cui lui fa queste azioni ripetitive appunto in cui questi gesti come in una sorta di cioè un modo comunque di veramente di scacciare la morte no? questo andare avanti e indietro questa ripetizione all'infinito del movimento sono tutti diciamo in fondo anche un walkway contrapposto no? questo andare avanti e indietro nel corridoio è un po' diciamo la metafora dell'artista che va verso diciamo è come se fosse una metafora dell'opera verso la quale diciamo l'artista va sono veramente una sorta di metafora dell'opera e del cammino dell'artista verso l'opera no? che è quella che si ripete continuamente poi in tutti i suoi lavori questa idea qui no? che non si raggiunge mai e tu hai detto anche e che l'artista continua a ricercare insomma l'opera ma anche la morte un fuggire de e camminare verso la morte sì verso e contro no? verso e contro siamo vivi cioè siamo vivi e sappiamo di dover morire no mi fa pensare molto sai adesso ho letto un articolo molto bello pubblicato nel London Review of Books su una sorta di ripensare oltre il principio del piacere sai quel testo tardo di Freud nel quale lui parla per la prima volta di quello che lui chiama sai è una sorta di tanatos o una sorta di tendenza che parte dello vivo che è una tendenza alla morte no? una sorta di desiderio della morte ed è vero che c'è nel percorso di Bruce è molto molto bello quello che tu dici che in quello andare e tornare è un andare verso l'opera e allo stesso tempo è un fuggire da cioè anche l'idea che lui dice no? che in fondo questi esercizi a lui interessava questa tensione tra appunto cercare di cioè fare degli esercizi difficili in cui c'è sempre questa tensione tra la possibilità di cadere e di sbagliare no? in cui lui ci mostra questo tentativo proprio impossibile di raggiungere l'equilibrio no? non raggiunge mai l'obiettivo va avanti e indietro all'infinito e questa anche questa in fondo è un'idea di Beckett no? si può fallire e fallire meglio però è anche un'idea molto molto sottile molto forse che magari non era neanche stata così capita all'epoca e in fondo quando gli si chiede l'ho letto in una delle interviste per chi lavori no? non mi ricordo dove una intervista giovanile lui dice per tenermi occupato dunque un po' questa quest'idea che insomma gli artisti lavorano per tenere lontana la morte per la fine I would like to add something regarding his use of words you spoke about erosantanatos I did some psychology studies so I know but it's the idea that it's in between there's no one thing in all his work including the one where he used words he make a kind of space which I would link theoretically with Foucault and the idea of truth the truth is in between it's not one thing this is my way to speak about the ethic mentioned and the talk Foucault made about truth was fantastic because he spoke about all the different things which can make it appear and how truth can change socially depending on the elements in Nauman he is alone so he avoids the social or political guiltiness of pressure to go where we are afraid to go No, quello è importantissimo Caroline dice come quel rapporto tra un po' tra erosantanatos a lei fa pensare un po' l'idea di verità articolata da Foucault ma l'idea di verità e io ho pensato a quello mentre tu parlavi dall'inizio è difficile pensare adesso che cosa sia la verità forse è la cosa più difficile perché siamo diciamo è particolare il fatto che sei dopo il po' modernismo per dire così dopo Foucault, Derrida, eccetera tutta questa idea che la verità può essere relativa non c'è una verità, eccetera siamo arrivati a un momento disastroso nel quale tutto sembra di poter essere manipolato è orrendo noi abbiamo vissuto quattro anni tremendi in quel senso in America e poi l'idea di che ci sia qualcosa all'interno dell'opera che la promessa dell'opera possa essere una verità o la verità è una cosa molto bella allora niente volevo chiederti come tu pensi la verità è continuare a fare delle opere quella è l'unica verità e ogni volta c'è una domanda diversa che viene data agli altri forse poi appunto le opere di Nauman sono delle domande più che delle risposte ecco vi volevo leggere se abbiamo se volete ho trovato questa cosa bellissima riguardo appunto se ve la posso leggere sì mi piacere anche se l'opera nasce dentro di te è impossibile individuarne la fonte e non accade mai due volte nello stesso modo quando non riesci a lavorare non riesci a decidere come cominciare e una volta che hai cominciato non riesci a capire da dove provenga la tua opera bello molto bello chi ne ha scritto? è una citazione da un'intervista di Nauman ma credo che forse sia un po' una rielaborazione anche forse di non so di Aristotele di qualche filosofo forse che lui deve aver credo non mi ricordo dove l'ho trovata è un'intervista di Nauman